Euro Regioni News Motocross FWG Chiusura Sfortunata A causa delle avverse condizioni meteo previste per il primo fine settimana di settembre, la direzione gara, assieme al Motoclub EDI, organizzatore, e il Comitato Regionale della Federazione Motociclistica Italiana del Friuli Venezia Giulia, avevano congiuntamente preso la decisione di rinviare l'ultima prova di campionato regionale Motocross al weekend 28 e 29 settembre. Lo scorso fine settimana, nonostante il rischio piovesse di nuovo, c'era il sole e il circuito di Gonars ha dimostrato per l'ennesima volta di essere uno dei migliori d'Europa, fantastico per chi deve impegnarsi sulle due ruote, grandioso per assistere da spettatore. Grazie alla fantastica organizzazione del Motoclub EDI, a Gonars quest'anno si sono svolte ben due prove del campionato regionale del Friuli Venezia Giulia, dato che abbiamo a disposizione un anfiteatro, un'arena che ha ospitato competizioni a livello europeo sia per il motocross, sia per il supercross, sia per l'enduro. Da Gonars Udine per Euroregione News, Marco Mascioli.